ciao ragazzi salve a tutti e benvenuti ad autopolis ragazzi ha finito il gran premio di moteghi della moto gp gran premio del giappone ed è vittoria per mar marquez 54esima vittoria in carriera ragazzi pazzesco tra l'altro ha battuto il record di duhan quindi che vi posso dire pazzesco ed è solo in inizio per questo ragazzo perché c'è sicuramente la carriera durerà molti anni datevi un'idea campionato del mondo di piloti marquez 350 punti dopo di che è arrivato vizioso con 231 ma datevi un'idea campionato di costruttori 356 punti la onda ducati 270 punti yamaha 268 ad oggi oggi si è risolto e finita anche per il campionato del mondo di costruttori il campionato del mondo di costruttori che ha vinto la onda 25 25 25 volte ha vinto questo campionato ragazzi la onda quindi roba pazzesca di valentino tanti hanno aiutato l'onda a vincere questi campionati insomma alla fine che vi posso dire la onda pazzesca tanto quanto mar marquez che già ad oggi ne ha tantissimi poti nella moto gp si parla oggi di dovizioso che ne ha fatto centesimo poti in tutte le categorie ragazzi dovete vedere le statistiche di mar marquez perché fanno davvero paura mi sembra che ad oggi era 131 quello che ne aveva di più e rossi con 230 ma guardate la carriera di valentino tanti anni che vi posso dire niente pazzesca roba pazzesca mar marquez continua a battere questi record una allora anche la fortuna di sorride perché oggi ragazzi aveva avuto problemi con con la benzina ha dovuto gestire la benzina perché non ci riusciva ad arrivare alla fine infatti l'avete visto che ha ha dovuto alla fine si è dovuto fare darsi un passaggio perché altrimenti non riusciva ad arrivare nemmeno ai pit tanta fortuna ne ha marquez ma un po la fortuna te la fai in questo caso qua mi sembra che meglio di così non li possa andare né a lui né all'onda spettacolare hanno vinto tutto stravinto l'unico campionato che rimane da vedere come andrà il campionato di squadre qui tuttavia la ducati ne ha un vantaggio ma ormai ad oggi ragazzi non è che sia più di tanto che vi posso dire risultati di questa gara qua vince mar marquez seconda posizione per favio quartararo terza posizione per andrea dovizioso che ha fatto una scelta una scelta abbastanza rischiosa quella di utilizzare una gomma soft all'anteriore e infatti è stato l'unico a fare una scelta del genere di quelli che andavano in testa e alla fine ha pagato e non me l'avrei immaginato ma alla fine ha riuscito medium al posteriore gli altri avevano fatto la scelta opposta quindi quasi riesce ad arrivare secondo non ce l'ha fatta è mancata poco ma una bella gara di dovizioso che è arrivato terza posizione quarta posizione per maverick mignale su maverick mignales che ha cercato in tutti i modi di fare a modo di sorpassare dovizioso ma non ci è riuscito non solo quello maverick anche ha detto ieri in un'intervista che se dovizioso lo passava sarebbe stato molto difficile per lui di sorpassarlo perché la ducati andava molto forte in frenata molto forte in curva quindi aveva ragione non è riuscito a passarlo velocità punta né a tanta quindi è andata così quanta posizione per vignales comunque che rimane il punto di riferimento della della yamaha in termini di punti ad oggi nel campionato del mondo di piloti dopodiché quinta posizione per car crash lo che cal crash lo ha ricoverato sta facendo una bella roba sesta per morbidelli che oggi ha fatto una gara molto buona magari uno ci si può si poteva aspettare un podio ma tuttavia va manca è soltanto all'inizio dopodiché settima posizione per alex ring ottava per mir nona per petrucci che vediamo come va ma petrucci deve aiutare molto ragazzi in questo caso qua il campionato dei costruttori è già ormai andato ma petrucci è molto importante perché per la ducati questo campionato qua era l'unico che poteva ambitire ora rimane quello di squadra e vediamo come va ma la vedo un po dura anche per quello jack miller decima posizione undicesima per spargarò dodicesima per oliveira tredicesima per bagnaia quattordicesima per cario quindicesima per alex con aprilia aprilia che in questo tracciato non si è fatto vedere sedicesima per nakagami diciassettesima per lorenzo a 40 secondi della vetta lorenzo tanta fatica lorenzo in questa gara dopodiché diciottesima per abraham diciannovesima per sirain ventesima per ghintoli e si è ritirato valentino rossi con una caduta strana non si è capito che cosa è successo perso l'alterio è andato a terra ma non stava nemmeno lottando per le posizioni mi sembra che non era nemmeno nei top 10 non lo so la regia non si è concentrato più di tanto su questa roba qua quindi quello che abbiamo ma non si sente in moto sua giovanettino con la moto ha fatto saperlo ha parlato nell'intervista rilasciate ieri in cui diceva che alla moto gli mancavano più cavalli si doveva fare molto di più beh insomma sì si deve fare di più ormai quello che si ha e quello che si ha a disposizione non è che si può fare più di tanto dovrà aspettare per l'anno prossimo per ora deve cercare di fare al meglio con quello che ha e beh vediamo come va valentino le prossime gare dovrà far vedere un po più qualcosa vediamo se si riesce ad adattare a questa moto un po di più e vediamo come va per il 2020 dopodiché si ritira anche andrea ianone che vi posso dire anche lui problemi beh campionato del mondo allora già vi ho detto i risultati ha vinto anche la onda incredibile che vi posso dire dobbiamo aspettare un po vedere cosa accade nelle prossime gare la prossima philip island un tracciato in cui ha vinto maverick miniale se non mi sbaglio l'anno scorso vediamo come va per l'anno prossimo ad oggi in questa gara qua tutto si è portato tutto la onda e tutto a marquez ancora un'altra volta vediamo dove arriva marquez me ne dimenticavo una cosa molto importante ed è che fabio qualtarano ne ha ottenuto il rookie of the year questo premio che è molto rilevante per per i piloti giovani per le giovani promesse alla fine molto felice per lui per me ad oggi quello che sicuramente riuscirà a fare in pensieri di più marquez in futuro se la yamaha riesce a fare un mezzo uguale li da un mezzo uguale a quella yamaha factory quella cavignale serossi e se riesce a migliorare di più questa moto perché lo deve fare assolutamente in termini di accelerazione velocità punta non si può fare molto di più vediamo come va 2020 dovranno lavorare tantissimo tantissimi nuovi tecnici anche malentino ha cambiato il capo tecnico tanti arrivi in casa yamaha per cercare di stravolgere un po questa moto vediamo come va non è facile la la onda ha fatto datevi un'idea ragazzi questa moto qua dicono tutti che la onda impegnativa questa moto ancora più impegnativa del quella dell'anno scorso perché mar mar che sta chiesto più motore anche se la moto sarebbe stata molto più difficile da un punto di vista di di farla girare questa mar mar che sta oggi ne ha ottenuto la decima vittoria in questa stagione un record abbastanza importante fa quasi paura quasi siamo i livelli del 2014 quando la aveva vinto tutto mi sembra quarta vittoria anche a livello consecutivo vediamo chi lo riesce a fermare questo ragazzo qualcuno sicuramente ci riuscirà vediamo come va un'altra notizia magari non ve l'ho detto ma sarco correrà le prossime tre gare rimpiazzando una kagami che si deve fare un intervento chirurgico per mettersi a posto la schiena quindi beh ragazzi tutto qua vi lascio anche la tavella dei punti così potete vedere il campionato del mondo fatemi sapere la vostra nei commenti se vi è piaciuto questo video datevi like iscrivetevi al canale vi saluto a tutti vi auguro una bellissima domenica ci vediamo alla prossima ciao saluti